Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. A 58 anni, Viaggio Antonacci è diventato padre per la terza volta. E, stato lui stesso ad annunciare sui social la nascita del figlio avuto con la compagna Paola Cardinale, pubblicando l'immagine di un fiocco azzurro appeso a un albero d'ulivo. Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio, ha scritto il cantante. Tantissimi messaggi di auguri di amici, colleghi e fan che si sono uniti alla sua gioia per il lieto evento.